Le lungaggini procedurali e burocratiche ci allontanano dalla concreta realizzazione del nuovo ospedale. Con queste parole il sindaco di Andrea, Giovanna Bruno, ha lanciato l'ennesimo allarme sul percorso, ormai da lungo tempo ad ostacoli, verso la realizzazione del nuovo ospedale di secondo livello con 400 posti letto in contrada macchia di rosa. I fondi attuali non sono sufficienti, i costi sono lievitati rispetto al progetto iniziale. Nonostante le rassicurazioni dal governo, la preoccupazione resta. Il primo cittadino andriese ha chiesto e ottenuto dalla provincia Bat la convocazione dei sindaci del territorio per fare il punto. Ciò nonostante ho ritenuto importante coinvolgere gli altri colleghi sindaci della sesta provincia, proprio perché stiamo parlando di una struttura che deve servire a tutto il territorio, anche per cercare di colmare un po' il gap dei posti letto. Siamo tra le province ultime in assoluto per dotazione di posti letto e sia per dare segnali di serenità alle nostre comunità per quanto riguarda la erogazione di servizi sanitari. A rischio sono i servizi sanitari necessari non solo per Andrea ma per tutta la Bat, come ad esempio nel caso del servizio di emergenza e urgenza per la quale la sesta provincia pugliese risulta scoperta vista l'insufficienza logistica e strutturale del Bonomo a cui si rivolgono utenti da ogni parte della Bat, ha sottolineato Giovanna Bruno. Per questo bisogna premere sul nuovo ospedale. È chiaro che non possiamo prescindere dal premere il più possibile affinché si veda finalmente concretizzata la realizzazione del nuovo ospedale. Un ospedale di 400 posti letto, un ospedale che con una serie di servizi deve garantire il mantenimento con un'efficienza elevata dei servizi legati all'emergenza urgenza, cui anche l'attuale polo ospedaliero del Bonomo è vocato, ma non ha gli spazi. L'Assemblea dei Sindaci sarà convocata all'inizio della prossima settimana. Intanto nei giorni scorsi il Consiglio Comunale di Andrea ha approvato il provvedimento relativo alla Casa Ospedale di Comunità, che sarà realizzata con fondi del PNRR, porterà servizi specialistici a disposizione, in particolare per la popolazione più anziana. Proprio la città di Andrea è stata tra le primissime, se non la prima in assoluto, a deliberare in Consiglio Comunale su una progettualità PNRR che sarà realizzata dalla nostra ASL BAT e che andrà proprio nella direzione di snellire il più possibile una serie di accessi al presidio ospedaliero che devono essere invece garantiti attraverso queste strutture secondarie.